Ciao a tutti, è da un po' che non vi faccio un video haul e questo sabato avevo una voglia matta di fare shopping sono partita, sono andata a Padova con l'intenzione di spendere mille miliardi di euro in trucchi e non ho preso nessun trucco, però ho preso un po' di abbigliamento vario e magari può essere un suggerimento per chi come me non è proprio snella e quindi insomma trovare cose low cost che ci stanno bene è una cosa più che ottima quindi vi faccio vedere quello che ho acquistato oltre all'abbigliamento ci sono anche altre cose perché nei giorni precedenti ho acquistato alcune cosine e quindi oggi vi mostro tutto quanto tutto insieme parto con H&M ecco qua mi ha stupito un sacco trovare dei pantaloni che mi vanno bene, dei jeans perché non li avevo mai trovati a dirvi la verità non avevo neanche mai cercato bene bene ero sempre molto scettica perché secondo me avevano tutte taglie piccole e invece no vi dico che ho anche provato i jeggings che hanno loro che sono appunto leggings però tipo jeans e sono quelli skinny e la taglia 44 la loro taglia 44 mi sta giustissima però mi sta sono molto stretch quindi magari portandoli si mollano anche un pochino e per chi come me ha una taglia che oscilla dalla 48 alla 50 e possono andare bene ecco mi fa sempre un po' strano dire la mia taglia però vabbè insomma questa sono e quindi non posso nascondere niente non li ho presi perché non ero sicurissima ho voluto cercare altro e ho trovato un paio di jeans taglia 46 quindi la loro taglia 46 che se non sbaglio è la nostra 48 cioè la normale 48-50 skinny super stretch questi qua quindi vedete che sono dei jeans normalissimi arrivano alla caviglia sono veramente skinny questa qua è la fine insomma del pantalone con le tasche sia sul davanti che sul dietro non sono jeggings i jeans sono proprio pantaloni quindi hanno cerniere e bottone sul davanti hanno questa tonalità di blu un po' scuretta li ho pagati 19,99 quindi 20 euro prezzo ottimo per un paio di jeans perché insomma i jeans per le taglie un po' più grandi di solito non si trovano a questi prezzi e sono rimasta molto 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 colpita e molto contenta infatti da oggi in poi cercherò più jeans anche da H&M magari super stretch che così si allargano un po' si adattano bene eccetera eccetera e quindi dateci un occhio se anche voi avete una taglia come la mia 44-46 qualcosa trovate e vi va bene ecco ci sono li ho visti anche neri di questo genere anche colorati anche leopardati anche neri a trama leopardata che mi piacevano un sacco però ho detto meglio di no partiamo con questi poi magari con il tempo vediamo se riesco a prendermi anche quelli e quindi questo è stato il mio unico acquisto da H&M una volta trovavo tante più t-shirt carine o comunque maglioncini magliette insomma pezzi sopra carini adesso non sempre hanno tanti strafanti come li chiamo io come si dice in veneto e quindi bisogna poi anche spulciare bene bene non lo so ma a volte sì a volte no secondo me si trova di più sul sito e visto che adesso hanno aperto lo shop online anche per l'Italia conviene guardare però appunto è sempre l'incognita perché certe cose sono davvero molto particolari e conviene provarle però sono stata contenta di questi jeans poi 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 a Padova avevano aperto anche Violetta by Mango però era uno shop temporaneo è vicino a H&M ho detto ok adesso stavolta che mi ricordo che c'è entro ma era chiuso perché secondo me lo stanno ristrutturando e credo aprono uno shop permanente insomma c'erano tutte le scritte Mango sulle finestre sui sulle vetrine quindi probabilmente aprono questo shop quindi c'è Violetta c'è se non sbaglio Uomo e Bambino è dove c'è Lex Sisley per chi è di Padova e dintorni o Pazzica a Padova e boh mi informerò e poi vi farò sapere però sono passata da Mango Mango è diventato il mio negozio preferito da quest'estate prima non trovavo mai niente ogni volta storcevo il naso perché non c'era mai niente di particolare e invece bisogna spulciare bene perché si trova un sacco di roba molto carina quindi sono passata da Mango Barcelona eccoci qua adesso vedrete la varietà infinita di colori però sono molto contenta in più c'erano gli sconti se si acquistava un capo scontato si aveva il 30% di sconto sul prezzo finale del capo se si acquistavano due o più capi scontati 40% io ne ho presi tre allora mi prendo già lo scontrino così vi dico anche i prezzi ho preso questa loro lo chiamano maglione è una maglia insomma a maniche lunghe in cotone nera un po' ampia con le spalle scese molto semplice e costava 19,99 con il 35,02% di sconto 12,99 ma io l'ho pagata 11,99 eccola qua e di questo ho preso la M perché Mango ha delle taglie umane e quindi spesso mi va bene la M io ho tanto seno non ho pancia o fianchi cioè si ce li ho ma non tantissimi ho più gambe quindi faccio più fatica a trovare i pantaloni perché ho delle gambe veramente brutte e quindi magari riesco a trovare anche cioè trovo di più magliette piuttosto che pantaloni però non sempre perché a volte la L è praticamente una XS e invece Mango fa proprio tagli umane quindi a volte mi va bene anche la M e questa appunto è M è così nera molto semplice però per tutti i giorni ci sta io adoro il nero lo trovo sempre adeguato elegante ma anche sportivo insomma mi piace poi ho preso questo maglioncino a V eccolo qui anche questo nero questo invece taglia L questi qua di base costano poco perché costano 9,99 con lo sconto del 30,03 sarebbe costato 6,99 invece io avendo preso più di due capi l'ho pagato col meno 40 e quindi l'ho pagato 5,99 molto molto semplice nulla di che un pulloverino così però mi piace taglia L ecco e per ultimo mi piace un sacco l'ho trovato alla fine sono stata contenta ho preso questo loro lo chiamano vestito però io lo userò come maxi maglia sopra i jeans sopra i pantaloni eccetera eccetera anche questo nero vi ho detto una grandissima varietà di colori c'era anche blu e rosso mi pare però io nero forever e questo qui costava 29,99 con il 33,34 sarebbe costato 19,99 invece io l'ho pagato 17,99 col 40% mi piace perché ha la cerniera sul dietro questo è taglia L è lunghetto arriva fino a metà coscia però mi piace molto carino anche questo semplice nulla di che però per tutti i giorni va bene ecco e questo è della linea Mango Basic vediamo questi Mango Basics e questo Mango Basics tutto Basics e molto carini anche i vestiti hanno un vestito favoloso con una trama d'occhiali una camicia bellissima con la stampa a piume insomma un sacco un sacco un sacco di cose che se avessi avuto miliardi di euro mi sarei presa tutto però ero un po' tirata e quindi ho deciso per questi comunque il totale è stato 35,97 non male per tre maglioncini poi i giorni precedenti sono passate da Tezenis e io l'anno scorso ho comprato un sacco di cose da Tezenis maglioncini maglie magliette eccetera eccetera trovo sempre cose molto carine e anche quest'anno ne ho viste varie però voglio aspettare un po' vedere se arriva qualcos'altro anche perché prenderei tutto nero e ho già tanta roba nera quindi voglio cercare di spaziare un po' con i colori ma sono passata per acquistare le canotte io ne avevo presa una nera un bel po' di tempo fa le canotte quelle lì diciamo intime quindi da portare sotto le maglie quelle con le spalline fine le adoro perché intanto vanno bene neanche a me che ho tanto seno comunque non sono proprio magrissima sono colorate sono in cottone sono facili veloci stanno bene sotto la maglia o magari se avete anche un cardigan che è un po' scollato e volete qualcosa sotto vanno bene non sono troppo impegnative c'era la promo e quindi se ne prendevi due pagavi 9,90 quindi aspettate che capisco una per 5,90 due per 9,90 e vabbè questa ho sbagliato la taglia ho preso la S e quindi devo portarla indietro però è questo fucsia molto molto carino ne ho presa un'altra taglia M ed è blu scuro e anche la M mi sta bene io della nera avevo la L però credo che porterò indietro questa e mi prenderò una M di questo colore perché comunque tengono bene anche sul seno tengono proprio bene stanno molto bene quindi anche da Tezenis si trova qualcosina ok per quanto riguarda i cosmetici si ho preso qualcosa c'è più che altro shampoo e magno schiuma da Tigotà ho trovato questo shampoo della Ecos che è shampoo con estratto biologico di avena ecco bio e quanti sono 500 ml mi pare per 3 euro e 50 insomma al massimo 4 euro io avevo già provato qualcosa di questa ditta che si chiama Pierpaoli mi avevano inviato un detergente per il viso e mi era piaciuto tanto è una ditta di Senigallia e ho visto che c'è anche il detergente viso mani sapone insomma un bel po' di cose il mese scorso ho provato uno shampoo ecco bio di rossi e non volevo più mollarlo sono contenta di aver trovato questo da Tigotà perché ha un buon prezzo e veramente lo shampoo naturale ecco bio fa la differenza sui capelli anche sui capelli di mia sorella ho proprio visto oggi si è lavata con questo e sono tutta un'altra cosa rimangono belli morbidi lucidi non appesantiti non extra gonfi insomma sono favolosi questi shampoo quindi se avete un Tigotà vicino spulciate bene che ci sono anche questi qua e poi dei provenzali ho preso il bagnoschiuma erboristico alla violetta io avevo già preso il sapone sapete che mi piace tanto il profumo alla violetta e quindi visto che l'ho trovato a 2,98 al posto di 3,98 ho deciso di prenderlo ecco per ultime Yankee Candle sono andata da Coin e mi sono sfogata era tanto che non prendevo così tante Yankee e quindi adesso ve le mostro l'ho speso in totale 12,27 euro di Yankee Candle e purtroppo forse ne ho presa una di nuova perché non mi piacciono tantissimo i profumi che hanno scelto per questo inverno c'è Icicle che però secondo me sta troppo di lavanda non lo so è troppo freddo c'è quella verde che non mi piace tantissimo avevo però preso Christmas Cookie che non è male è molto dolce e Angel Wings che però secondo me assomiglia tanto a Turquoise Skies e quindi insomma non ci hanno imbroccato tantissimo almeno secondo me però vabbè ho preso vari Yankee di Natale magari degli anni scorsi o quelle permanenti quindi ho preso Christmas Eve questa è buonissima l'avevo già presa l'anno scorso è favolosa sta proprio di Natale poi ho preso Cranberry Ice buona anche questa l'avevo già provata Snow in Love è la prima volta che la prendo però non mi pare male come profumo Christmas Memories anche questa sta di Natale molto buona un po' hanno questo odore un po' speziato che io adoro proprio in inverno così avvolgente caldo mi piace tanto e poi ho preso Snowflake Cookie che è questa qui che è questa bella dolce e Red Apple non so dire l'ultima parola Red può essere la ghirlanda di Natale e anche questa l'avevo già provata molto molto buona tutte rosse rosa e bianche ecco queste qua sono appunto le candele forse no neanche questa è nuova nessuna di queste è nuova nuova sono dei profumi che avevo già provato però sono molto buoni ecco questo è tutto questo è il mio shopping di questi giorni e ditemi se anche voi avete una taglia come la mia siete un po' curvi e visto che va di moda dire curvi c'è stato anche il curvi pride a Bologna e ditemi voi dove trovate i vostri capi di abbigliamento se comprate appunto in questi negozi low cost tipo i cendem eccetera eccetera se trovate cose carine se avete scoperto altri negozi nuovi che così io poi quando ci capito spulcio bene e niente vi saluto come sempre vi bacio e vi aspetto alla prossima ciao